Ciao Caterina, io sono Il Salutatore e la Miocef gli chiedo un super saluto a tutti i tuoi fan. Un super saluto a tutti i miei fan attraverso Il Salutatore. Grazie, ciao. Ciao, lì. E qui al cinema? Tutti su Amazon Prime a vedere Sono Lillo. Ecco qua, Sono Lillo che non è lei ovviamente e noi li salutiamo tutti quanti. E poi dal 26 invece a Oris 4 su Amazon. Disney Plus, ecco qua, così possiamo salutare tutti quanti. Ciao Boris, ciao.